Edoardo De Angelis, Mozzarella Stories, un film molto atteso di cui abbiamo sentito parlare visto anche la qualità di una sceneggiatura che tu hai costruito dopo il lavoro al centro sperimentale come ti sente questo esordio di questo film che insomma tra qualche mese vedremo finalmente al cinema? Posso dire che Mozzarella Stories è un film molto atteso sicuramente da me nel senso che non vedo l'ora di vederlo e di vedere come reagirà il pubblico a quella che è stata fondamentalmente una mia follia nella quale ho coinvolto un sacco di persone e quindi adesso sento forte il peso della responsabilità. Una sceneggiatura molto originale che ha elementi di commedia ma anche di dramma, anche poi di film d'azione come hai trovato il punto di equilibrio tra tutti questi fattori che poi danno un prodotto assolutamente originale e decisamente avvincente? Ma io penso a Mozzarella Stories come una commedia malavitosa a base di caglio e in questa definizione secondo me c'è la sintesi anche di cosa è il genere di questo film ovvero un film che racconta eventi drammatici con uno sguardo ironico e soprattutto con uno sguardo che intravede una via di uscita in fondo al tunnel ed è ambientato tra le bufale e le mozzarella. Con delle donne protagoniste Luisa Ranieri e Ida Turturro ma ci sono anche altri personaggi femminili molto importanti? Sì c'è Luisa Ranieri che è un personaggio che io amo molto perché è una donna che riesce a prendere in mano le sorti di una piccola società che è una società di produzione di mozzarella. Poi c'è Ida Turturro che è un'attrice che io ho sempre amato tantissimo perché sono un fan sfegatato dei Sopranos quindi per me Genes Soprano è un personaggio che ho sempre amato e vederla passare dai vecchi DVD consumati di Sopranos alla loop della macchina da presa è stata una grande emozione. In più c'è Linda Chang che interpreta la cinese, la Tian Su di questo film che è un personaggio che riserva delle sorprese interessanti. Come hai costruito questa commedia corale dal punto di vista della scelta degli attori? Perché i ruoli essendo così inverosimili poi invece sono molto realistici come solo la realtà riesce a essere raccontata attraverso la finzione. Hai trovato un cast molto importante di attori di grande esperienza? Sì, del cast sono assolutamente orgoglioso perché ho fatto insieme alla casting Costanza Boccardi ma anche insieme agli sceneggiatori, un lavoro proprio di ricerca di attori che potessero interpretare questi personaggi che vivono situazioni paradossali ma in maniera totalmente realistica. Ci tenevo a restituire il senso di realtà dell'assurdo di tutto quello che succede in questo film. Il film è anche una riflessione su quella che è stata la tua biografia. Caserta, una città che ha quasi ottenuto una serie di cose che tu citi nel film a partire dalla palla a nuoto. Questo elemento biografico che chiaramente non racconta la tua vita ma racconta il tuo rapporto con questa città, quanto era importante? Non so se sia l'elemento biografico importante. Certo la mia biografia mi ha fatto accendere delle lampadine perché mi ha sempre incuriosito e affascinato totalmente l'andazzo di una serie di personaggi che quando diventano una moltitudine fanno l'andazzo di una città di arrivare al punto di raggiungere un successo di raggiungerlo quasi ma poi inevitabilmente cadere giù l'attimo dopo. Quindi questo successo non l'hanno mai raggiunto. E io li fotografo in questo momento in mozzarella stories e gli do un'opportunità ma soltanto a chi se la merita. Un anno fa eri sul set. Oggi sei qui a Riccione, giorni professionali, per presentare questo film. Questo film è uscito tra un po' e poi hai già pensato a cosa farai, quale sarà il tuo prossimo lavoro, se hai qualche suggestione che già in qualche maniera ti diverte. Sì ho più di una suggestione in questo momento. Sono stuzzicato da storie che parlano di personaggi del sud ma che però vivono altrove. Come te. Come me. Come me.